In tante parrocchie, in tante situazioni, i ragazzi dopo la cresima vanno via e purtroppo le incontriamo proprio in questa occasione. Le troviamo magari nei funerali dei genitori, dei nonni, eccetera, eccetera, ma trovandosi in questa occasione, non la sarei mai aspettata. Senti, sui parrocchiani, questa comunità di questo quartiere, come ha vissuto, come sta vivendo, ha potuto parlare con loro, ha sentito voci, qual è l'animo? L'animo è molto, molto rattristata, soprattutto perché c'è stato quegli altri episodi di 6-7 mesi fa che ha colpito l'animo di tutti quanti. Adesso, trovandosi di fronte un'altra volta a una situazione simile, beh sì, sono rimasti un po' prostrati, sono rimasti. Comunque, sempre pieni di fiducia, andare avanti.